Conoscete l'All Season di Ray Dalio? Stavo per dire Ray Charles. L'All Season Portfolio di Ray Dalio è un portafoglio modello che lui utilizza da qualche parte che prevede una distribuzione degli asset particolari con una maggior porzione di obbligazionari corto e medio termine, no, lungo e medio termine, il 30% di azioni e il totale di 15% con le commodities. È abbastanza fisso, l'ha fatto Ray Dalio, è miliardario, siamo tutti contenti che l'abbia fatto e ho pensato perché non provare a farla con i trading system? Qualcosa di simile, no? Una specie di via di mezzo tra trading system e operatività di investimento. Allora ho fatto una cosa croccante. Questo è l'All Season Portfolio di Ray Dalio, vi metto il link in descrizione per vederlo nel dettaglio ma i dettagli ci importano poco perché, ripeto, io volevo fare un mix, no? Un'unione. Allora ho fatto questa roba qua, questa roba croccantella e scrocchiarella dove è ok e dove è ok. Praticamente io ho fatto... Ecco qua, allora, abbiamo gli indici, abbiamo il bond e abbiamo oro. Le materie prime, vabbè, scriviamolo. Ok? Io volevo un sistema che sfruttasse al massimo le caratteristiche principali, no? Quindi indici e bond necessitavano di un sistema solo long reversal che evitasse zone di alta volatilità. Mi stava per venire ipervolatilità. Sì, dai, inventiamo concetti nuovi. Quindi lasciando scoperti eventuali zone di ritracciamenti vari ma sfruttando proprio il bias di fondo. Ok? L'ho fatto sul time frame weekly per la semplicità ed è uguale per indici e tutti gli obbligazionari. Questo è sull'SP500 Questo è sul Nasdaq Com'è lento? Questo è su FV che è il quinquennale obbligazionario americano Questo è su US che è il trentennale Questo è sul Bund Un altro esempio è sul TY che è il decennale Tutti su Future a vent'anni e hanno tutti un average trade sufficientemente importante nonostante l'equity non sempre drittissime per via del weekly e per via del come l'ho costruito Insomma Questo nonostante non sia meraviglioso ha 312 Tutti i sistemi hanno Tutti i sistemi hanno Facciamo così Tac Tutti i sistemi hanno uno stop loss sulla volatilità un'uscita in gain arrivato a un certo un certo livello ok? Quindi al massimo massimo di X e ho una filtro di vola basato su Bats vola ok? Quindi entro solo quando Bats vola degli ultimi X giorni degli ultimi X settimane è inferiore a un TOT proprio per evitare zone di ipervolatilità basta il sistema è molto semplice funziona su tutto ed è dal suo poi su oro ho semplicemente fatto il un sistema long over weekend ok? di copertura semplice sul time frame daily poi ho fatto dei sistemi di copertura adesso andiamo andiamo a analizzare un pochettino i portafogli fatti e mi dite cosa ne pensate per approfondimenti facciamo un altro video un altro discorso questo è il portafoglio base selezionando l'SP500 l'FV che è il quinquennale che è l'obbligazionario più piccolo margine a circa 1000 dollari e ha un TIC di 7 dollari rotti e l'oro in verde c'è l'oro come vedete è molto irregolare come andamento perché sono sistemi molto molto basici e le pesature qua sono un contratto intero su FV che è il minimo che posso usare e 2 micro su SP500 e oro semplicemente guardando l'equity nient'altro che l'equity per rendere sufficientemente equiparate ed equiparabili i risultati sono qua abbiamo in 20 anni 85.000 dollari 6.500 di max drawdown e average margin no max required margin 3.500 mini portafoglio 1 margin 3.500 molto grezzo eh attenzione non è che sto dicendo chissà che cosa max drawdown diciamo 7.000 uguale 15.000 che è max drawdown per 2 più 3.500 fa un portafoglio da tradare con 19.000 dollari per andare morbidi eh ok si può fare anche di meno ma per andare morbidi è così nel mini portafoglio 2 ho aggiunto un sistema di copertura è un sistema di copertura che funziona bene su sp e nasdaq benino su dow jones e russell e male sugli obbligazionari perché si difendono scendono in modo diverso dagli indici questo è su sp500 è un sistema di copertura che in quanto tale ovviamente perde nei momenti in cui sale molto l'sp è evidente qua la contrapposizione cioè sale quando l'sp o si ferma o scende eccetera eccetera è un sistema di copertura sicuramente intelligente basato su un'espansione delle delle bollinger band su base daily questo sistema di copertura proprio per evitare danni negli anni del 2008 e robe così avrebbe composto un portafoglio sicuramente più protetto mini portafoglio 1 più copertura le pesature sono uguali le pesature sono uguali c'è la copertura a 0.5 al posto che è 0.2 per dargli un po' di effetto perché se no era visibile non agiva neanche fa margin 5.9 cioè 6.000 max drawdown fa 6.000 perché è diminuito ok è tutto slipato è tutto slipato attenzione uguale 12.000 più 6.000 fa 18.000 cambio a poco è tutta una questione mentale che ha una copertura decente oltre la copertura over weekend solo long dell'oro poi ho fatto questo portafoglio in cui ho messo sempre FW a un contratto e il resto calibrato in modo secondo me decente con 5 operatività stagionali cioè i spread stagionali c'è il crude oil il mais il cotone il succo d'arancia e la soia è un'operatività che richiede veramente poco capitale ma che si confa bene perché dai miei studi è risultato evidente che gli spread stagionali funzionano molto bene quando l'SP crolla è un portafoglio sicuramente più completo in cui la copertura è fatta con con l'SP spread stagionali e non con il sistema di copertura ok quindi è proprio un portafoglio nuovo max required margin 3000 mini portafoglio 2 margin 3000 max rowdown 6008 diciamo 7000 uguale facciamo il 2 volte il max rowdown più il margine fa 17000 sono calcoli buoni nel senso che sono tutti al netto di un pesante slippage imposto soprattutto su ore obbligazionari assolutamente già incluso abbiamo preso due volte il max rowdown su un sistema estremamente grezzo come è questo e d'altronde si vede voglio dire vediamo sulla Russell non ho preso EMD e Nikkei per una questione di liquidità sono performance buone ma molto ballerine ok è chiaro è evidente e nonostante questo il max rowdown rimane sempre sufficientemente contenuto perché qual è il trucco qua il trucco non è fare un sistema migliore ma è calibrare il peso del sistema sulle nostre necessità come al solito viene prima la gestione del rischio piuttosto che altro fatto sta che è evidente che sia migliore il portafoglio numero 3 numero 2 chiedo scusa perché perché abbiamo aggiunto un'operatività che fa bene in generale al portafoglio perché è molto diversificata dall'sp se volete approfondire basta vedere altri altri video e la parità di struttura fondamentale cioè di motore di sistemi principali aggiunge un'operatività diversa e richiede un minore capitale certo è una differenza di capitale risibile ok va bene ma abbiamo aggiunto 5 operatività in totale 4 perché abbiamo aggiunto 5 operatività ma tolta l'sp di copertura ma abbiamo diminuito molto il max il margin required e contenuto in modo assolutamente eccellente il drawdown questo è il potere degli spread stagionali e niente l'or season portfolio in realtà poi l'ho valutato per altri tipi di lavori per altri tipi di liquidità e vale varie comunque è stato un esperimento molto interessante che continuo a tracciare ovviamente questa questa settimana avrebbero perso per l'apertura in gap down c'è stata una vendita brutta la cosa positiva è che ha guadagnato oro quindi ha un contratto intero oro entra sempre il venerdì ha un contratto intero l'oro questa domenica questo lunedì ha guadagnato adesso ve lo faccio vedere ha guadagnato 1760 dollari che è una buona copertura assolutamente e l'SP ha perso a contratto intero per ora 2800 dollari quindi c'è stata una perdita solo di 1000 dollari buono assolutamente buono l'FV tutti gli obbligazioni sono flat quindi a tranne del boom sono tutti flat insomma basta era uno spunto di riflessione e vi invito ecco qua stasera 20 e 30 continuiamo a parlare di spread stagionali con i tre segreti sugli spread stagionali di cui vi voglio parlare sono tre trucchi 20 e 30 sulla pagina facebook non dovete assolutamente mancare sono ancora aperte le votazioni per il buzz factor numero 1 fino a lunedì prossimo potete votare il sistema di Alessio in base ai 5 parametri potete votare dal blog dal youtube da facebook io trago tutte le conclusioni lunedì prossimo e mandare ovviamente mandate i nuovi sistemi io posso sempre pescare dagli altri che mi sono stati inviati ma più la concorrenza si fa fitta più sistemi dovete mandare e migliori devono essere le spiegazioni quindi non tardate troppo a mandare i vostri sistemi e basta credo di aver detto tutto sì credo proprio di aver detto tutto quindi niente più scuse stasera è diretta 20 e 30 croccante croccante come sempre grazie grazie a tutti